ciao bene tu beh guarda me la cavicchio sai leeeh aspetta ma non spieghi oggi ai compri amici barinelli barinelli AMORE BAREEEEEEE sai ahahahahah chi è che cosa fa? una professoressa di fisica cosa che fa? eh quando per esempio fa il casino fa così tipo tu fai l'escd fa che difficile facile e a a a a